Guarda, guarda! È anche quello! Sai, la bellezza non è l'unica proprietà dei fiori di Irule. Vengono anche usati in cucina e per le tinture. Questo fiore si chiama Principessa Serena. È una specie molto rara e non si trova quasi più. È già da un po' di tempo che stiamo cercando di coltivarlo, ma purtroppo non riusciamo a farlo attecchire. Forse significa che questa Principessa è destinata a svanire. Ehi, guarda che ha trovato! In cucina è una vera prelibatezza, ma abbiamo scoperto che contiene anche sostanze che potenziano le nostre abilità. Proprio ora al castello ne stiamo studiando l'efficacia su alcuni volontari. Con la forza che hai, saresti una cavia perfetta per l'esperimento. Dovresti prendere parte anche tu allo studio. È interessante! Dai! Dai!